Per i nerostellati, sesto e ultimo derby abruzzese di un girone d'andata, sinora varo di soddisfazioni come certificato dall'ultimo posto in classifica con soli tre punti all'attivo. Dopo l'1-1 contro il Monticelli, ecco la seconda gara interna consecutiva per la squadra Peligna che ospiterà il San Nicolò. Per l'occasione il tecnico nerostellato di Marzio, oltre agli altri elementi in organico, avrà finalmente a disposizione anche il difensore francese Bitsindu e l'attaccante nigeriano Onwashi dopo l'arrivo dei sospirati transfer, mentre la società guidata dal presidente Pace lavora su almeno un paio di nuovi innesti di mercato. Quella che si chiude è una settimana che in casa Peligna ha fatto registrare la risoluzione dei rapporti con i calciatori di Ruocco e Censori, anch'essi presentati in modo inappropriato a giornalisti e tifosi come grandi colpi di mercato al momento del loro arrivo. Se per l'attaccante esterno hanno inciso anche delle valutazioni di carattere tecnico, per l'esperto centrocampista ha invece pesato molto l'espulsione rimediata in maniera del tutto sciocca nella sfida della settimana scorsa contro il Monticelli. D'altronde è solo grazie a Censori che gli Ascolani hanno potuto giocare in superiorità numerica per un'ora buona. Sul fronte uscita è definito il passaggio dell'attaccante Palombizio al Sulmona, notizia anticipata il 18 novembre scorso nel servizio di presentazione del match San Giustese-Nerostellati. Sempre nello stesso servizio si fece riferimento anche ai trasferimenti a Sulmona degli ormai ex difensori nerostellati Ponticelli e Valente. Notizie date in anteprima e rivelatesi nient'altro che verità. Intanto il campionato di Serie D va avanti e i nerostellati sono chiamati alla loro prima vittoria stagionale per tenere accese le speranze di salvezza. Nella quindicesima giornata di campionato l'avversario sarà un San Nicolò reduce dal pareggio casalingo contro la San Giustese. La squadra allenata da Campanile al momento occupa il quintultimo posto in graduatoria con 14 punti, dei quali 7 conquistati in casa e altrettanti raccolti in trasferta per uno score di 4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. Il match di domani sarà diretto dal signor Gianluca Grasso della sezione di Ariano Erpino, assistito dai collaboratori di linea Giuseppe Maiorino e Carmelina De Angelis di Nocera Inferiore. Appuntamento domani allo stadio Pallozzi di Sulmona con calcio d'inizio alle ore 14.30.